28 novembre 1983 E ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa A Milano la sentenza per l'assassinio di Walter Tobagi suscita diverse polemiche Marco Barbone e Paolo Morandini, autori pentiti dell'omicidio, sono condannati a 8 anni e 9 mesi e rimessi in libertà Vieni a pescare con noi, ci manca il ferro